ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dei vostri video dei vostri orologi e di voi che li presentate tutto un insieme di fattori che poi fa in modo che risultino accattivanti come come video no non sempre a volte ci sono quelli che è a o i u si si prolungano un pochino un po prolissi magari lenti nel comprendorio però noi ci piacciono tutti no ci piacciono tutti sia quello che sia è una rubrica che ci mette di fronte le vostre scelte e soprattutto quello che interessa a me è tanto vedere orologi nuovi no perché non spesso si vedono sempre i soliti orologi ma a volte saltano fuori qualche chicca nascosta che magari ti fa salire la scimmietta on the shoulder head and shoulder si shoulder che poi dopo gli devi dare la nocciolina e lei si placa no ma non si placa guardando il video non è che la scimmietta guarda i video con te e poi sta zitta no e comincia a charlare e te per farla star zitta gli devi dare la nocciolina cioè devi portarla a comprare l'orologino quando lei vede l'orologino dopo si placa così fa così proprio così si abbassa proprio però dopo salta fuori di nuovo ora l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo maco della orient un orologio che ho da poco in collezione e che mi dà grandi soddisfazioni è un orologio che mi piace indossare lo utilizzo per andare al mare ma anche no anche per stare in casa a volte certo che dare lo spazio a tutti gli orologi che ho è sempre più difficile ora la ghiera leggermente spostata perché l'ultima volta che sono andato al mare poi dopo ho lavato la ghiera sotto l'acqua dolce perché va fatto va è un suggerimento ogni volta che andate al mare fate il bagno nell'acqua salata va poi sciacquato l'orologio in acqua dolce sotto la doccia in acqua dolce facendo ruotare la ghiera per togliere i grani di salsedine che si infilano sotto e poi dopo possono creare un problema di anzi l'ultima volta che ci sono andato col simaster dell'omega il problema se sapete dove si è creato esattamente nella clasp perché l'omega come altri orologi hanno il pulsantino all'interno della clasp per regolare la lunghezza c'è una slitta meccanica se lì dentro ci va della salsedine o peggio ancora della sabbia ecco fatto che inizia a non funzionare grippa come si suol dire in termini tecnico quindi va sciacquata anche la clasp interna mi raccomando già che ci siete sciacquate anche le maglie tra una maglia e l'altra perché quando voi siete a fare il bagno in una situazione di mare no sabbioso di fondo sabbioso si alza anche la sabbia in sospensione nell'acqua e quella sabbia quel crinnelli di sabbia vanno a finire anche negli interstizi dell'orologio quindi la polizia fa parte della manutenzione quotidiana dai passiamo al primo video che ho già parlato anche troppo ma magari sono anche fuori luogo vero sono fuori luogo mai fuori luogo sbarra spaziatrice pronta fuoco ciao davide ciao emanuele da stradate un saluto a te a tutti gli amici del canale volevo mostrarti sicuramente la tua collezione di umili orologi come al solito però fermiamoci un attimo qua vediamo la copertina del disco de metallica per chi non sapesse chi non riesce a riconoscerla così è veramente un babbeo perché si tratta del master of puppets che direi che è l'album il masterpiece di metallica veramente dell'86 quando io l'ho ascoltato per la prima volta ho detto ma su che pianeta siamo poi c'è le guns and roses altro grande gruppo di tutt'altro genere street street metal anche loro loro non li ho mai visti al vivo dovevo andare a vederli dal vivo nel dicembre 1987 e figuratevi che facevano da spalla ai motley crew motley crew headliner guns and roses gruppo di supporto poi non hanno suonato a milano perché il buon nicky six ha pensato bene di farsi un overdose e quindi è saltato il concerto poi c'è anche un plettro quindi è un chitarrista o un bassista va bene abbiamo detto anche troppo fuoco partì la mia collezione di orologini partiamo subito da questo casio o ci vuole lo ha già il quarzo regalo della mamma carino non lo indosso mai perché da quando ti seguo una sorta di allergia verso di orologia batteria comunque lo tengo ma no va bene indossa secondo quarzo è questo set o le completamente in alluminio anche questo un regalo di una ragazza che frequentavo una ventina di anni fa cui vagino personalissimo top anche se è evidente che di orologi non ci capisce molto eh vabbè ultimo abanzo un altro setto questo l'ho acquistato io un paio d'anni fa perché mi ricorda molto il primo orologio che indossavo tra gli anni 90 primi 2000 e quindi l'ho preso un po per ricordo bravo passiamo ora gli orologi meccanici che tanto ci piacciono oriente i due orologi pagato pochissimo che però mi ha stupito per la sensazione di solidità che dal polso e poi anche carino con questo quadrante blu soleil praticamente l'ori e 32 è come questo qua come il maco cambia il quadrante cambia la ghiera che non la ghiera stessa cambia colore in questo caso poi cambia il quadrante gli indici e qua c'è il vetro zaffero lì c'è il vetro minerale però cavolo è un bell'orologio quando lo metti al polso l'ho portato al mare in piscina non mi ha mai dato problemi e ci manca l'orologino affoga che problemi ti da altro diver posto can fibia scuba di hood geneticamente modificato gli ho cambiato l'inserto ghiera mettendo questo in ceramica nera in cinturino in gomma nera orologio che in questa configurazione mi piace molto un po più moderna ma si è etico dell'originale ci sta a divertirsi con il vostro che l'ultimo diver classicone citizen pro master automatic in questa colorazione rosso nera come il mio milan orologio che hanno tutti ma se ce l'hanno tutti un motivo ci sarà pure indosso molto spesso mi piace molto bravo poi passiamo dagli orologi militari da questo trigger la casa l'acqua modello 1925 hausburg incasso movimento l'acqua s2 non è altro come 8 8 mila rimacciato funziona molto bene molto leggibile per chi piace questo tipo di orologi lo consiglio perché fatto molto bene l'ho recensito anch'io 42 questo 39 boh non si sa field watch emilton cacchi field 40 mm movimento h10 molto preciso questo orologio mi piace per la colorazione del 40 nera con gli indici sabbia numeri arabi che riprendono il cinturino in cordura bravo ora c'è molto ben fatto precisissimo lo indosso spesso anche questo preciso emilton s h10 passiamo ora la parte un po più vintage della mia collezione che anche quella un po più interessante zodiac hermetic ma deve essere un orologio di fine anni 50 iniziano i 60 mi piace moltissimo quadrante bianco simmetrico piccoli secondi ore 6 numero 12 in alto con questi indici un po allungati l'unica pecca che un 35 mm quindi lo indosso raramente quando metto la camicia però mi piace moltissimo è molto bello carica manuale ecco questo è uno di quegli esempi di quando dico orologi sconosciuti che nessuno di noi mai aveva preso in considerazione in questo caso questo zodiac qua è veramente mai visto è bello con i piccoli secondi così bello simmetrico poi 35 mm lascia il tempo che trova anche io c'ho tutti i login che sono 34 35 al massimo 36 ma vanno indossati vanno saputi indossare per quello che sono perché un 34 35 36 non devi paragonarlo a un 41 42 44 dei giorni nostri cioè sono dei vintage quando le indossi devi completamente twist cambiare mood oppure proprio il cambio di mood che ti fa portare indossare uno di quelli e indossarlo per quello che è per un 35 mm e quando la gente te lo dire te lo vede rimane così dice ma come piccolo quello orologio ma perché ce l'avrà cioè rimane anche un po incuriosita no cioè avere un po di personalità che va oltre no il solito tra tra i soliti cliché proseguiamo con un orologio che ho salvato dalla discarica e marina automatic l'ho comprato al vetro completamente graffiato la cornice della finestra data staccata un cinturino inguardabile niente ho cambiato il cinturino lucidato il vetro incollato la finestrella funziona perfettamente apprezzo molto il quadrante di questo degrade questo tonalità di grigio dal chiaro oscuro che ha dei bellissimi riflessi color bronzo metallici non so se si vede dal se hai fatto tutto solo dei miei preferiti bravo bravo siamo agli anni 70 con questo tisso iconico pr 516 gl orologio che mi sono fatto arrivare dagli stati uniti addirittura mento originale prezzo d'occasione è molto bello gli indici incollati al vetro con la lancetta dei minuti che passa al di sotto quadrante blusole il bracciale integrato mi piace moltissimo anche questo orologio l'ha appena fatto revisionare molto preciso ci piace anche a noi anche a noi orologio che una storia un po particolare questo king seiko me lo sono fatto arrivare dal giappone dopo tre settimane quasi un mese di attesa mi è arrivato non funzionava giravano solo i secondi minuti le ore erano fermi ho contattato il venditore che senza batterciglio ma ha fatto il rimborso totale anche della spedizione lasciandomi l'orologio non ha voluto nemmeno ricchiare cui l'ho portato dal mio orologiaio che con 40 euro me l'ha sistemato praticamente l'ho cambiato il cinturino perché il sobracciaio originale mi va piccolo che ho messo questo qui giallo che da un po di colore all'orologio e anche tutta la collezione lo apprezzo molto anche questo precisissimo mi piace parecchio cioè praticamente l'ha pagato 40 euro cioè ti ha rimborsato totalmente ma e te hai accettato il rimborso totale io sinceramente non lo so se avrei approfittato così tanto della bontà del venditore nel senso non funziona lui ti dice io ti rimborso totalmente va bene tieni pure l'orologio e io gli avrei detto no facciamo così fammi un rimborso al 50 per cento e poi lo riparo io oppure ancora e così già senza sapere le spese oppure ancora più onestamente lo porto a sistemare e poi per gli scali mi fai cioè una roba del genere cioè accettare tutto il rimborso e poi farlo riparare con 40 euro a me mi sembrerebbe di avere un po imbrogliato mettiamola così cioè non è che voglio accusarti e poi magari mi ci trovo lo faccio anch'io zitto piglia i soldi e scappa però così su due piedi mi viene in mente che forse è stato troppo buono il venditore altro orologio anni 50 longin 12 68 cacchio cassa da 37 e mezzo corone originale aveva anche il suo cinturino in lucertola che però sostituito con questo perché rastremava troppo rastremante non mi piaceva bravo e quindi gli ho messo questo qui con le impunture panna che riprendono al quadrante si è impiegato un po a trovarlo perché la configurazione con tutti e dodici numeri arabi è piuttosto che si trovano quelle più numeri pari e le erano tornati così mi piace di più e quindi l'ho cercato l'ho trovato e l'ho acquistato bravo ho fatto bene mi piacerebbe anche a me ce l'ho però ultimo orologio omega genève orologio bellissimo referenza 166099 un caso movimento 1481 in che omega in quegli anni faceva in collaborazione con tisso orologio barcelo integrato tutto originale corona molto 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 bello anche questo ne indosso molto spesso niente davide col mio orologio finito come prossimo acquisto ovviamente un nuovo zuiosa quello con il quadrante turchese piccoli secondi a ore 6 che l'ho visto dal mio orologiaio mi piace tantissimo entro fammi sapere cosa ne pensi un saluto love 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 bella collezione gli diamo un bel 7 tondo un bel 7 tondo che si muove per la maggior parte su orologi vintage ma che orologi vintage omega long jean tisso zodiac tutti belli tanta roba complimenti king seiko come dimenticare quel king seiko che buh a gratis è bravo e poi gli entry leve come pro master l'orient ray perfetto 7 come voto tralasciamo i primi tre che fanno parte del passato remoto poi lo zuiosa si bravo l'hai trovato anche dal tuo è un bel orologio quello con i piccoli secondi soprattutto al calibro leggermente più rifinito dietro lo vedi che ha lavorato cioè per l'age per l'age c'ha dietro invece quello dello zuiosa normale è tutto dorato proprio come dire gli diamo una verniciata per non far vedere no le brutture però anche alcuna normale va ora amico mio e mi tocca fare il marchettone ma se ce l'hai dal tuo amico orologio lì prova a sentire l'amico giacomo della gioielleria pasquale domenici che ha preso ora in concessione citizen e su citizen ti fa un bello sconto pari pari tondo tondo meglio di tutti con comprese la spedizione te lo dico così è un passato per fare un po di pubblicità al mio amico giacomo comunque chiudiamo il discorso prendilo pure dove ti pare a te poi alla fine e 7 la collezione 7 bravo promosso buongiorno o buonasera o buonanotte davidio mi chiamo francesco sono di napoli questa è la mia piccola collezione di orologi che volevo condividere con te con gli amici del canale partiamo con il primo orologio che ho nella mia collezione è un vintage carica manuale joint fit non conosco niente di questo orologio però è un orologio a cui sono molto molto legato molto molto affezionato perché mi è stato regalato da un amico di mio padre che purtroppo non c'è più mi ha regalato questo orologio sono stato molto felice e adesso sono estremamente felice di indossarlo bravo molto orgoglioso di farlo perché quando lo indosso mi ricordo di tutti i bei momenti che ho vissuto insieme con lui e quindi rimarrà qui per sempre con me fammi sapere che ne pensi perché io non conosco assolutamente questo orologio il secondo orologio e cosa ne penso e non lo conosco nemmeno io mai sentite dire quella quella marca lì sembra una marca di marijuana joint fit vabbè però vabbè carino poi carica manuale non so che calibro c'è dentro però presumo che possa ritenersi un orologino simpatico da avere in collezione soprattutto per l'aspetto inusuale cioè non è che c'è un orologio vintage di un marchio sconosciuto che assomiglia a tanti altri è originale poi se al valore effettivo cosa ne penso abbasso le mani anzi alzo le mani alzo le mani oggi ho anche per me ha una lenza affettiva in orologio che mi regalò mio nonno per i 18 anni è un quarzo 7 2 9 9 la referenza ho mandato anche il seriale alla longin che mi hanno risposto che questo orologio fu prodotto nel 1989 questo è l'orologio che mio nonno mi voleva mi avrebbe voluto regalare per i 18 anni ma quando io nacque gli diagnosticarono una malattia incurabile in realtà poi mio nonno è campato fino a che io non avessi 18 17 anni e qualche mese lui mi aveva già comprato in realtà quando avevo 3 4 anni questo orologio voleva consegnarmelo ai 18 anni non c'è riuscito me lo hanno consegnato a 18 anni alla mia festa è un orologio d'oro 18 gradi quindi sembrerebbe un orologio difficile da portare ma io lo porto spessissimo perché ricordando mio nonno genera tantissime emozioni ogni volta che lo guardo è un tuffo al cuore e poi è anche bello secondo me orologio regalatomi dai miei genitori per la specializzazione al quarzo quando io mi sono specializzato non ero ancora diciamo appassionato quindi quando ho visto questo orologio ho pensato soltanto all'estetica non al meccanismo che fosse un quarzo batteria come dici tu tornassi indietro forse guiderei i miei genitori su un'altra scelta però dopo averci messo questo cinturino in pelle della hamilton sempre io ho dato una nuova vita perché con il bracciale in acciaio mi risultava troppo pesante comunque lo indosso spesso con piacere quindi rimane qui bravo ne ho due di diver questo è il secondo che ho acquistato ma è quello forse un po più arrogante spin hacker è una tarologiera asiatica che no se diciamo no spin hacker fa parte della del gruppo dartmouth che è un gruppo inglese capito quindi sarebbe un pochino più corretto definire inglese è un gruppo che ha spin hacker avviotto james mccabe tutta una serie di brand di micro brand brand e spin ha che si li fanno sicuramente in cina o hong kong non lo so in asia poco male però definirlo proprio asiatico sì vabbè però sono belli guarda qua uno spin hacker così come originale ha un aspetto ha un aspetto originale non copia nessuno secondo me va per quello che costano possono essere anche posseduti come diceva rocco si freddi ho conosciuto diciamo per varie recensioni su internet leggendo è un orologio massiccio secondo me non ne capisco tantissimo ma secondo me ben rifinito è un 300 metri di impermeabilità vetro zaffilo la ghiera penso che sia ricoperta anch'essa in vetro minerale forse un orologio assolutamente ben fatto forse un po pesante però questo è un orologio che nasce per fare il gradasso in spiaggia per cui mi piace indossarlo ogni tanto fa per ciale credo sia fatto molto bene perché non è lamierino ma è bello massiccio è tutto massiccio per cui forse un po gradasso ma insomma fa il suo come dici sta quando invece voglio in spiaggia fare meno di gradasso utilizzo questo ben più discreto orient kamasu a cui ho cambiato il cinturino ci ho messo il cinturino jubilee non ha bisogno di presentazioni questo è un orologio che ho comprato quando non ero appassionato e ho scoperto di aver fatto un ottimo acquisto quando un paziente si presenta l'ambulatore mi guarda al polso e dice ah ma lei è un appassionato c'è il kamasu ottimo acquisto e mi ha raccontato tutta una serie di di cose su questo orologio sulla casa orient io in realtà l'avevo comprato su amazon nel break friday perché mi piaceva esteticamente era in offerta l'ho comprato tipo meno di 200 euro l'ho preso e ho avuto culo evidentemente strano però va bene uno che sceglie a caso un kamasu quelle caratteristiche automatico vetro zaffero bello della orient così a caso non è da tutti perché ti poteva capitare anche un emporio armani no e quello che mi sorprende cioè che mi sorprende è una conferma il fatto che un paziente non so che lavoro fai entra ti vede il kamasu ti nota il kamasu orient no quante probabilità ci sono che uno te lo nota e attacca bottone hai capito ora sicuramente questo l'ha fatto perché ha visto che chi ha un oriente kamasu ora proprio è capito è stato sfigato perché ha preso quello che l'ha preso a caso però solitamente ti prende un orologio un kamasu un o un vostok anfibia questi orologi così che sono particolari economici ma particolari vanno ricercati bisogna saperli andare acquistare no si rende conto di avere a che fare con un appassionato con qualcuno che è ora qua non è il tuo caso perché l'hai preso a caso insomma dai però va bene ecco sono un po accartato proprio che volevo dire no è che siamo capiti altro acquisto questo recente di seconda mano un seco 5 sport questo è un orologio che mi piace molto però mi lascia un po la mare in bocca perché è proprio l'aspetto di un diver il quadrante lo trovo molto molto bello dicevo all'aspetto di un diver non è un diver questo forse mi lascia la mare in bocca però quando faccio una corsetta quando esco a passeggio col cagnolino me lo tengo per tenere i tempi insomma niente di che ma mi piace cioè ma non è mica che devi andarci col cagnolino e basta ci puoi andare anche a fare il bagno con un orologio 100 metri di impermeabilità non è un diver nel senso che non può essere usato professionalmente ok ma se ci vai al mare a fare il bagno in barca o al piscina lo puoi utilizzare lo puoi utilizzare tranquillamente ripeto io ho utilizzato anche un 50 metri con coronavite però però cambia niente il mio oris big crown l'ho utilizzato al mare ci ho fatto il bagno quindi anche questo qua 100 metri con una pressione e lo puoi usare al mare non è che lo devi usare solo a passeggio che ragionamento è volevo un orologio elegante e mi sono comprato un t-stop rx al quarzo perché al quarzo direi tu esistono quelli là automatici al quarzo perché io lo volevo col padrante bianco così non lo fanno automatico e bianco c'è soltanto in madre perla che però forse è un po eccessivo e quindi ho deciso di prendermi questo t-stop rx al quarto al quarzo mi piace lo indosso spessissimo lo trovo ben fatto quando poi sono stato assunto dall'ospedale in quel lavoro mi sono regalato questo spettacolare max bill 34 mm young hands a carica manuale è un orologio che lo indosso e dico wow che pezzo mio zio invece per il regalo della mia cresima quindi parliamo di svariati anni fa mi regola questo eberhard aiglon recentemente l'ho fatto revisionare lucidare perché comunque un orologio che credo abbia più di 15 anni vorrei mettergli un bracciale perché forse lo rende più prezioso però non riesco a trovare dei bracciali della eberhard perché eberhard insomma ha un servizio vendita molto molto strano insomma non si trovano se non su ebay questi bracciali prezzi spropositati di dubbia provenienza ma non lo so dammi un consiglio lo metto spesso un consiglio non lo saprei dartelo cioè non ho nemmeno idea se esiste la versione braccialata di questo orologio se esiste la versione braccialata di questo orologio devi comprare il bracciale da eberhard e pagarlo quello che ti chiedono io non so quale consiglio darti io personalmente a me non interesserebbe assolutamente nel senso che non lo vedo migliorato con il bracciale no io sono uno che a me bracciali in acciaio piuttosto giocherei sui cinturini che magari con meno spesa e con maggiore una gamma più ampia puoi scegliere di cambiargli l'aspetto no qui c'è un cinturino marrone così proverai a mettercene uno nero quello che ti pare a te proverai anche a esagerare anche se c'è i numeri romani un cinturino in gomma con le anse tonde fai un po' te però un cinturino prova in squalo qualcosa che gli dia con la deployant sotto no che gli dia un pochino di cambi l'aspetto ma il bracciale se lo vuoi lo compri quello della eberda è inutile che stai andare a bussare a chi lo fa adattarlo poi dopo ci rimani male lascia stare vai su quello della eberda per la mia laurea scusami i miei genitori mi hanno regalato questo orologio un must de cartier è un orologio vintage penso dei 90 2000 non lo so dammi tu una mano io non amo i cartier però mio padre voleva per forza a tutti i costi regalarmi un cartier e in realtà qua c'è una piccola storia da raccontarti in realtà questo è il secondo cartier che mi hanno regalato i miei genitori il primo che mi hanno regalato era un cartier d'oro tank falso e me ne sono reso conto 15 anni dopo per cui perché non lo portavo mai l'ho portato all'orologiaio per sistemarlo mi ha detto guarda questo è falso dalla testa ai piedi quindi l'ho riportato ai miei genitori l'hanno portato dall'orologiaio che ce l'ha venduto insomma ci siamo messi d'accordo per evitare denunce roba varia e mi ha fornito ci ha fornito questo must de cartier non lo porto ora io non so mi sembra di aver capito che l'hai portato ti sei accorto che è un falso dopo 15 anni e dopo 15 anni l'avete riportato dal venditore accusandolo che è falso bene sono contento che è andato tutto come doveva andare ma è diciamo che merito del venditore del negoziante perché dopo 15 anni io posso anche non ricordarmi veramente o far finta di non ricordarmi oppure dire non è vero te non non te l'ho venduto io perché non lo so ma guarda c'è lo scontrino oppure la casa che lo scontrino dopo 15 anni si non lo so è andata bene che è andata così perché dopo 15 anni accorgersene lì probabilmente non potrebbe anche essere che neppure il venditore era conoscenza del fatto che fosse un falso possiamo dargli beneficio del dubbio non sempre tutti sono così espertoni da da capirlo poi il cartier ci piace a noi che bello orologio ho fatto tantissimo però lo porterò al mio matrimonio che sarà a breve perché lo trovo fatto proprio perfetto per stare sotto la camicia ultimo orologio è il Longines 1832 Heritage con fasi lunari io so che a te non piacciono le fasi lunari ma io questo orologio ci tengo tantissimo perché mi è stato regalato da quella che sarà mia moglie me l'ha regalato come proposta di matrimonio in realtà la proposta di matrimonio gliel'avevo fatto io a mia moglie ben più di anni fa però mentre stavamo organizzando il matrimonio lei è stato diagnosticato un tumore al seno per cui abbiamo dovuto annullare tutto bloccare tutto quello che stavo facendo lei ha dovuto fare l'intervento chirurgico la chemioterapia alla fine della chemioterapia non avevo voglia assolutamente di riorganizzare tutto il matrimonio lei invece sì un giorno mi ha fatto una sorpresa sono entrato in casa e mi ha fatto trovare tutti i palloncini con la scritta mi vuoi sposare una scatola infiocchettata della Longines e questo orologio ha accompagnato la sua richiesta di matrimonio la sua proposta di matrimonio quindi sono assolutamente legato a questo orologio spettacolare e ogni volta che lo indosso mi ricordo quel momento che per me è stato un momento emozionante orologio del giorno questo Seiko 5 con quadrante grigio è ovviamente un orologio che ogni volta che lo indosso mi ricordo che non bisogna spendere migliaia di euro per sentirsi a proprio agio questo Seiko 5 da 180 euro un saluto a tutti gli amici del canale ti ringrazio e buona continuazione Ah grandissima, belle storie queste guarda che sei stato un po' perseguitato dalla sfiga perché il nonno che anche lì ha comprato l'orologio del darte ai 18 anni sperando di riuscire a raggiungere a vederli e non li ha visti insomma e poi la moglie che ti fa il regalo per chiederti insomma va bene dai qua sarà meglio tagliare un po' corti perché un bello 8 ti do dai ti do 8 perché sono un po' preso dell'emozione quindi gonfiamo anche un pochino il voto da 7 e mezzo lo diamo a 8 che te lo sei meritato per tutto il percorso per gli orologi belli brutti bravo bravo via prossimo video ciao Davide ciao sono Giovanni mi fa molto piacere condividere con voi questo video in cui presento la mia piccola raccolta di orologi va bene tanto guardiamo che c'è ben 4 chitarre ora io da qua da lontano non vedo le marche sembrerebbero tutte Stratocaster Fender Stratocaster poi chiaramente ci sono anche nel mondo delle chitarre le imitazioni la Hondo io mi ricordo la Hondo la Hondo l'amplificatore lì e poi c'è il mobile dell'IKEA che quello lì non manca mai ti seguo dal primo lockdown e da quella volta non ho più perso un tuo video bravo allora iniziamo subito con un classico del canale cos'è? la Gendiver lo indosso molto comodamente avendo un polso da 18 cm si l'orologio è conosciuto adesso lo ha vestito con questo cinturino in gomma di Christopher Ward che tra le altre cose oltre a ottimi orologi fa ottimi cinturini sia in pelle che in gomma eccetera eccetera è bravo Cristoforo niente l'uscita è del 39 mm però mi sta facendo vacillare sono tentato di fare lo switch switch swap sempre in casa l'engine bello bianco da 40 mm con questo dial argente orologio che ho preso usato in condizioni di fare il nuovo lo adoro comodo che bella corona precisissimo questa colorazione del dial non si vede spesso a me non si vede spesso perché aura io non la stavo guardando così ti sembra un quadrante bianco è un quadrante bianco ti dici e invece se la vedi dal vivo certe foto fatte bene vedi che è un quadrante bianco rugoso veramente tridimensionale nel quale i numeri spiccano in maniera incredibile gli indici applicati i numeri arabi veramente alti così e la leggibilità è totale quindi uno dice il quadrante bianco non si legge molti rimangono un po' fregati anche io all'inizio l'avevo già scartato subito blu nero come al solito blu e nero sempre blu e nero bianco e bello bianco e bello piace davvero tanto poi vai orologio che ho da un paio di mesi che forse sta sta per anzi è il mio orologio preferito attualmente bravo capitan cook capitan cook con questo dial che sfuma dal nero al grigio all'argento con delle punte di rosso orologio proprio bello 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 comodissimo sottilissimo preciso preso usato da un amico anche questo condizioni di fare al nuovo bracciale a chicchi di peso è comodissimo guarda non avevo mai provato un orologio orato e mi sono innamorato bello 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 poi un orologio che non indosso praticamente mai perché perché andando avanti negli anni la vista è calata che tengono in collezione solo per motivi e fini collezionistici quindi sta lì non lo indosso mi piace piace averlo leggere l'orario vicino un modellino ad un phantom f4 che costruiva mio babbo tanti anni fa gl dl161 vedro plexi 36 mm in veste in purist questo qua non è un orologio da aperitivo perché dopo il secondo qua l'orario non lo legge più è già così difficile perché è su 24 ore lo vedete su base è 24 ore i numeri sono veramente vicinissimi poi ci sono le 24 ore anche sulla ghiera e poi ci sono i numeri anche all'interno del quadrante già così da fermo faccio fatica a leggerlo però ha il suo perché bello storico storico lo so faccio le pause sto in silenzio ma è un'esperienza nuova quella del video Fortis B42 car armato questo è un car armato questo l'ho portato sul ghiaccio ha scalato delle cascate di ghiaccio è stato tantissime volte con me in tre canchi impegnativi in montagna ma in grotta in forra ma appena revisionato l'orologio assegnato assegnato utilizzato dagli astronauti russi dell'Aroscosmos è molto utilizzato sulla ISS soprattutto in veste crono bello ha un antiriflesso eccolo vedi c'ha questa luce azzurra si irriga facilmente l'ho ripristinato però l'ho lucidato con un po' d'antifricio le righe sull'antiriflesso più profonde sono sparite probabilmente ho eliminato anche un po' d'antiriflesso intorno però che comunque c'è bello è un po' grande perché è un 42 mm e la ghiera con la ghiera e la misura della ghiera arriva a 44 però va bene ha un lag to lag abbastanza contenuto con il nato io lo indosso molto comodamente fa il suo come dicono in molti fa il suo ma è inutile ma anche basta trovare le scuse è 44 ma il lag to lag è contenuto basta trovare le scuse un orologio da 44 mm è un orologio da 44 mm e come tale va indossato con piacere come dicevo prima quelli da 34 da 35 da 36 mm vintage hanno il loro perché hanno il loro modus operandi soprattutto per lo stato in cui ti senti te quelli da 44 da 45 da 43 hanno un altro modus operandi ormai ho usato questo termine che non la vieta di utilizzare sia uno che gli altri non è che bisogna sempre andare nella stessa no un orologio tecnico così un tool watch lo vuoi fare 38 mm ma poi lo butto via 44 e 44 mi metto il 44 deve essere bello visibile leggibile poi ti lamenti del glissin airman che non si vede che è piccolino con tutti i numerini è per forza quando un orologio deve essere un tool watch deve essere grande poi questo è un orologio fighissimo preso anche questo usato da un amico fatto revisionare in omega servizio eccellente vabbè come hai detto te preso a casa revisionato restituito servizio costoso sì ma l'orologio è tornato nuovo il bracciale non c'ha più una riga la cassa è stata lucidata ripristinata anche il vetro anche il vetro mi è stato lucidato era l'orologio non era messo benissimo quando lo acquistai è tornato nuovo il vetro è lucidato eccolo qua poi comunque ah e niente è sottilissimo preciso poi comunque amo la figura di Peter Blake non sono un appassionato di vela ma mi sono un po' informato sulla storia di Peter Blake grand'uomo poi il mio orologio preferito per quello che rappresenta perché sono appassionato di esplorazioni e l'esplorazione spaziale per me è l'apice dell'avventura dell'avventura umana e niente questo è un uno speedmaster con movimento 861 del 1995 trizio esalite sono in precinto di farlo revisionare dal mio orologio di fiducia è stato ripeternato l'ultima volta nel sette anni fa e quindi è ora di fargli una piccola messa in piega strano che cioè l'omega precedente l'hai mandato a fare il service ufficiale questo invece vai dall'orologio per l'amor del cielo come vuoi però è strano perché probabilmente il prezzo del service non chiamiamolo la revisione perché il service ufficiale è proprio il service ufficiale ti cambiano anche le sfere ti cambiano tanti tanti particolari te li sostituiscono completamente proprio di default non è che perché guardano si è rotto no via sfere sostituite però costa di più il cronografo costa molto di più rispetto a solo tempo il cansa bracciale l'orologio è perfetto non ha un graffio ma l'ho fatto aprire qualche mese fa e gli oli cominciano a essere leggermente secchi quindi è ora di sistemarlo e sistemiamo poi l'orologio che indosso di più questo è stato con me in torrenti ghiacciati è arrivato sottoterra quasi a meno mille non c'è un graffio è un marchio che adoro consiglio a tutti di prendere in considerazione Christopher Bard per la qualità che propone questo orologio in particolare è un C65 assegnato ai cadetti della scuola ufficiale Sandars appartiene all'arena Militari è niente 38 mm certificato COSC non ha lo scatto fantasma della data vero male ha delle finiture secondo me ottime ottime questo questo è un'altra fondello chiuso con l'insegna dell'esercito britannico sgancio rapido del bracciale veramente tanta roba un po' scarsino nel lume però è comodissimo 38 mm si è andato sottoterra va bene comincio a dilungarmi troppo Dario io ti ringrazio grazie a te saluto tutti gli amici del canale love mi veniva a mente che sei andato quasi sottoterra a mille metri però esplori un bel po' perché hai fatto che le cascate ghiacciate sei un bel esploratore sottoterra a più di mille metri quasi mille metri e cosa hai fatto di bello ci hai portato un orologio che ci allume un pochino vabbè che dici tutto buio quindi non è che mi si carica l'orologio anche se fosse stato però in realtà se fosse stato un orologio di quelli belli reattivi con poca luce con poche avrebbe avrebbe lavorato meglio e poi per antonomasia per andare sottoterra ci vuole il GMT perché quando uno si compra un GMT gli dicono la barzelletta che gli raccontano è perché per gli esploratori no Explorer 2 vanno sottoterra per giorni e giorni non sanno se è pomeriggio o mattina quindi il GMT gli serve per quello hai capito quindi ci dovevi andare con un GMT ho sbagliato qualcosa no vabbè niente collezione 8 ti do 8 perché tutti i begli orologi simpatici come si deve e che ci sono piaciuti invece gli omeghini l'omega lì il Peter Blake quelli lì ci piacciono quando lo vedevo pensavo ma quasi quasi un giorno me ne prendo uno anche io poi lo mando a fare il service ufficiale così mi torna nuovo come quello lì cioè è una malattia cosa mi serve adesso che ho si master 300 professional però anche il fatto di volere quelli lì vecchi vecchi per modo di dire sono neo vintage sono dei primi anni 2000 2005 anzi no forse sì 2005 ci piace dai ci piacciono gli orologi e basta l'8 te l'ho dato sì la collezione te l'ho dato complimenti e poi anche per la vita temeraia che fai ecco ti ci vuole un time un Hamilton Expedition eccolo lì quello lì è fatto con la bussola per te tra 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 mi hai avuto in mente un flash così dai ragazzi io devo andare a vedere i gattini su Instagram non posso stare qua con voi quanto vorrei ci sono lì che mi aspettano miau miau saltano si arrampicano e poi si girano verso di me e io con la scimmietta qua li guardo li guardo con la scimmietta si diverte anche lei e siamo tutti contenti vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti.